Si è sempre ingannato. Lui usa le gallerie d'arte solamente come una copertura. Spaccia a droga. Dov'è Braden? È lì ora? No, tu lo devi assolutamente fermare. È andato a uccidere un uomo chiamato Caifano. Caifano? Sì. Katie, dov'è Kane? Ciò è tutta colpa mia. L'ho portato io da Braden. Ma mi aveva ipnotizzata, non sapevo ciò che facevo. Braden è un ninja. Finalmente ho capito tutto.